Brutto Capitombolo del Fano che al termine di una settimana travagliatissima cede l'intera posta a Riccione perdendo all'Italo Nicoletti per 3-1 e scivolando dunque al quart'ultimo posto. Per la compagine romagnola invece una giornata importante ed un successo coinciso proprio con il ritorno nello stadio di casa con tanto di inaugurazione del nuovo manto sintetico. Riolfo, tecnico conosciutissimo anche nelle Marche, schiera nel tridente offensivo Tonelli, Maio e Samb ma al quarto d'ora è l'alma a passare. Infatti l'arbitro Barbetti di Arezzo concede un calcio di rigore per un fallo commesso da Martinelli. Dal dischetto Padovani non sbaglia portando in vantaggi Granata. I paroni di casa protestano poco dopo per un fallo di Penzalfini su conclusione di Tonelli ma stavolta il direttore di gara lascia proseguire. Il Riccione spinge dalla mezz'ora pareggia su un traversone dalla destra e perfetta l'inzuccata di Matteucci sulla quale Guerrieri non può davvero nulla. Ripresa con ancora i biancazzurri a premere e dal quarto il risultato è ribaltato, Falussam riceve palla sulla tre quarti, salta con un pallonetto il portiere ospite in uscita e ribadisce in rete per il vantaggio. Matteucci, autore della prima rete biancazzurra al ventesimo si libera della morsa della difesa con una giravolta, poi serve Maio che spara alto. La rete è nell'area, il Tris lo cala ancora a Falussam che se ne va in velocità e calcio a sicuro complice una deviazione per Santi che nel frattempo aveva rilevato Guerrieri e battuto. Partita in ghiaccio e fine dei giochi e domenica al Mancini arriva niente popò di meno che la San Benedettese.